Avete sentito l'assessore Giuffida che dice la zona di San Giacomo dove c'è poi molta zootecnia e cose del genere. L'acqua gliela deve dare il consorzio, ma se il consorzio di bonifica non funziona, non potete accusare il comune di Ragusa. Tra l'altro, ed è l'errore che hanno fatto anche stamattina in quel servizio della RAI, il comune dà l'acqua alla rete idrica della città, non può pensare anche a quelli che sono i bisogni dell'agricoltura. Tra l'altro, e qui è il futuro, bisognerà pensare a riciclare queste acque, perché molte acque che vanno perse potrebbero essere sistemate, ripulite e poi messe per abbeverare, perché noi abbiamo scelto addirittura delle culture che ci sono nel nostro territorio, i kiwi, i kiwi vanno pazzi per l'acqua, ce ne vuole tantissimo, il mais non è una piante autoctone nostre, quindi lì c'è bisogno di tanta acqua e quest'acqua dove la pigliamo? Dobbiamo cambiare metodo, ma è chiaro che il comune pensa alla rete idrica e lì deve cercare di sistemare l'agricoltura e certe zone e il consorzio di bonifica. E invece il problema della spazzatura, allora il problema della spazzatura è serio in tutta la Sicilia, infatti il sindaco oggi manda un comunicato e dice guarda, basta vedere in tutta la Sicilia che ci sono, le sale sono in base da spazzatura a causa di discariche esaurite e in esaurimento. Io dico ma come dobbiamo fare? Perché questa cosa è 2300 anni che l'abbiamo, no? Da sempre c'è questa storia che non abbiamo dove buttare i rifiuti, è la terza vasca, è la quarta vasca. Allora l'assessore Baglieri che è venuto ieri, l'altro ieri, ha detto ho parlato con il sindaco di Trapani, dice noi stiamo cercando, gli abbiamo chiesto se può prendere anche la spazzatura da altri posti. Dice sì, lui ha detto va bene, ma da qui a Trapani ci sono 350 km, lo capite che il doppio, il tripode andare a Mazzara, insomma a questo punto quando dobbiamo portare a 300 km, quanto ci costa? E allora questa è la soluzione che ha trovato l'assessore Baglieri, non mi sembra fra le migliori. Tra l'altro noi dobbiamo andare a trovare la nostra discarica perché da tempo si dice che bisogna individuare questo sito. Allora domani mattina, dopo la festa della Guardia di Finanza che si fa a Villa Margherita, alle 11, alla provincia, che poi è la sede dell'SRR, ci sarà una riunione di tutto l'SRR con gli altri sindaci, l'infinito della stampa, per parlare del futuro. Il sindaco Cassi, che ci vuole il presidente, ci vorrà far sapere quale sono le iniziative, ma per esempio la questione dell'individuare la discarica è essenziale. Se noi non troviamo dove fare la discarica, saremo sempre qui, ma la discarica ognuno non la vuole, ma in provincia dobbiamo averne una, troviamola, facciamo queste cose. Dice il sindaco che stiamo facendo delle manifestazioni di interesse, cioè offriamo più soldi per coloro che sono disponibili a fare una discarica, è essenziale per noi, non possiamo farne a meno. E vediamo domani cosa ci dice il sindaco Cassi. Siamo andati a Vittoria oggi perché c'è stata la presentazione di un intervento della regione, capite oggi è anche un po' di politica, perché l'orevole di Pasquale ha presentato insieme a l'orevole Aiello questo contributo straordinario che è stato dato al comune di Vittoria per sistemare Palazzo Iacono. Palazzo Iacono è un palazzo storico molto importante, il comune una volta era in piazza, in piazza del popolo, poi lo abbatterono per fare il monumento perché avevano comprato il Palazzo Iacono, ma Palazzo Iacono come capite ha bisogno di tantissime cose, di interventi, perché è un enorme palazzo, tanto è vero che il sindaco dice noi siamo entrati più volte a fare dei lavori, però porca miseria, insomma non si finisce mai. Allora vediamo il servizio, le interviste sia all'orevole di Pasquale che al sindaco Aiello. Vediamo.